buongiorno stamattina mi trovo a pesca 5 miglia fuori guardate che cosa ho trovato ragazzi è impressionante mi sembrava una pinna di squalo di lontano ho detto ora la firmo ma guardate che c'è qua due cinghiali due cinghiali che se se da dove vengono ragazzi guardate due cinghiali se da dove vengono è normale sta cosa ora stanno andando direzione marzanevi vendighieri su per giù la rotta che hanno è quella io li sto scortando verso terra vediamo saranno stanchissimi abbiamo provato di chiamare la capaterneria vediamo se viene guardate guardate io non ho visto mai queste cose ora che lo firmo da vicino uno ci sono un po' di vissi vediamo se riesco a farli tornare vicino non è normale eh io mai ho visto dei cinghiali qua poi qui non è zona di cinghiali da noi ma queste sono cinghiali che vengono dall'asica o l'hanno buttata da qualche nave guardate qua impressionante impressionante da qui è tutto rest in peace